63 anni, nata a Vittorio Veneto, medico specializzato in medicina del lavoro, igiene e medicina preventiva, con una lunga esperienza alle spalle, sia dal punto di vista sanitario che gestionale. Paola Padudetti sarà la nuova direttrice dei servizi sociosanitari dell'Uls 1 Dolomiti per il triennio 2024-2027, in sostituzione a Giampaolo Pecere. In attesa dell'ufficializzazione da parte del commissario Dalben, la nomina proposta ha ricevuto il parere positivo della conferenza dei sindaci, che si è tenuta questa mattina a Palazzo Rosso. Si è andati a verificare i rapporti con la Regione del Veneto, le competenze acquisite da questo professionista in ambito sanitario e sociosanitario. Ho ritenuto che abbia tutte le carte in regola per ricoprire bene questo ruolo in questo territorio, visto anche la conoscenza che ne ha dello stesso. A Paludetti la gestione dei servizi sociali in integrazione con quelli sanitari presenti sul territorio, un'area in forte espansione per quanto riguarda l'azienda sanitaria bellunese. Da una parte si stanno sviluppando gli ATS, gli ambiti territoriali sociali, quindi una nuova visione della gestione del sociale. Dall'altra c'è questo importantissimo tema dell'integrazione sociosanitaria che vede i comuni da una parte, azienda sanitaria dall'altra, a trovare quelli che sono i progetti, le soluzioni, i percorsi migliori in ambito di aree veramente fondamentali. Parliamo di salute mentale, di dipendenze, di anziani, di disabilità e di aree di materno-infantile. Passaggio obbligato alla luce delle amministrative che hanno interessato 31 comuni del bellunese, anche l'elezione del presidente della conferenza dei sindaci, che riconferma Oscar De Pellegrini in carica fino alla scadenza della metà del suo mandato da sindaco come da statuto, e la nomina di tre membri del comitato esecutivo, riconfermata Sara Bona per l'area dell'Alpago, e nominati Buzzo Amedeo per l'area Cadore Comelico e Daniela Piccoli nel Feltrino. Per De Pellegrini è fondamentale mantenere una visione unitaria e coesa della gestione della sanità sul territorio della provincia di Belluno, che trascenda campanilismi e settorialità. La problematica è di tutti e quindi la conferenza ha la funzione di accogliere tutte le problematiche che arrivano dal territorio, cercare di fare sintesi e poi confrontarsi con l'azienda per cercare di dare risposte.